Sono 28 le realtà sportive aretine sostenute da Nuova Banca Etruglia con il coinvolgimento di centinaia di bambini e ragazzi rappresentanti delle principali associazioni sportive. Un modo per ribadire il legame con il territorio che la nuova realtà bancaria sta costruendo. Innanzitutto le tradizioni buone bisogna continuarle, quindi questa è veramente una gran bella tradizione. Poi non solo sport, anche giovani che sono due belle cose. Per me parlare di futuro alla mia età venne strano, però qui abbiamo il futuro di questa zona e il futuro bello, il futuro pulito, il futuro buono. Perché lo sport non è solo attività, ma è anche esempio. Il dilettantismo è un gran bel esempio di sport, ma anche di pulizia che si dà alla società. Credo che in questo momento ricreare fiducia tra la nostra banca che rappresenta il territorio e il mondo dello sport, credo che sia un bel messaggio. Un messaggio per l'intero mondo sportivo aretino, per tutti coloro che hanno sempre creduto nella banca dell'Etruria e che nel cuore, fino in fondo, ci credono che risorga bella e vigorosa come era una volta. Questo è il messaggio forte.